Nel corso online Realizzare ebook in formato ePub è saltata fuori questa domanda Ma in un ebook in formato ePub 3 si possono inserire delle infografiche, possibilmente addirittura interattive? Sì, ecco un esempio Questo è un ebook aperto con iBooks Ecco qui, al clic viene mostrato un grafico Clicco in quest'altro punto e viene mostrato un secondo grafico nella stessa area Ovviamente in questo caso l'interattività è molto semplice Ma sulla falsa riga di questo esempio si possono realizzare interattività anche più elaborate Lo stesso ebook in formato ePub 3 Infatti lo stesso ebook lo possiamo vedere aperto su Adobe Digital Editions Nell'ultima versione, quella che supporta iPub 3 Produce un risultato praticamente identico Così come aperto con Redium Il lettore di iPub 3 per Chrome Consigliabile, quello che consiglio caldamente per la fruizione di iPub su computer Eccolo qua Si può fare Così come aperto con Redium